Altro che mafia stracciona. La criminalità foggiana ammanicata al clan dei Casalesi ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità. È considerata talmente affidabile dai Casalesi che le viene affidata tra il 2010 e il 2011 la stampa e la produzione di banconote false da 20 euro. A far partire le indagini nel 2010 la Guardia di Finanza di Barletta che comincia a cogliere i primi rapporti fra mafia foggiana e camorra alzando il livello di investigazione dopo il ritrovamento di un foglio. In pratica i Casalesi appaltano ai foggiani la stampa delle banconote false in maniera da delocalizzarne la produzione e non finire nell'occhio dei controlli. L'alleanza foggiane è andata avanti per mesi fino a quando cioè dopo vari tentativi le banconote erano perfette per entrare nel mercato. Dopodiché però i foggiani ottengono per 100.000 euro trovati in 24 ore l'autonomia dell'affare dall'acquisto della materia prima alla produzione e alla commercializzazione delle banconote. L'organizzazione rasentava alla perfezione. Il trasporto delle banconote avveniva all'interno di un'ambulanza tra l'altro fermata per un controllo ma occasionalmente vuota. Così come le comunicazioni tra i mafiosi erano a circuito chiuso con telefoni acquistati ad hoc e di fatto impermeabili alle intercettazioni. E' incomiabile dunque il lavoro dei militari che invece sono riusciti a smascherarli. L'indagine che ha portato a 10 arresti tra cui esponenti di spicco della Camorra come Angelo Del Rico e della mafia foggiana Massimiliano Cassitti e Savino Ariustini è stato il risultato di una sinergia tra direzione distrettuale antimafia di Bari e procura di Trani insieme ai militari della guardia di finanza del nucleo di polizia tributaria di Bari e del gruppo di Barletta in collaborazione con lo Scico di Roma. Sequestrati oltre che carta filigrana per la produzione delle banconote false anche beni per oltre un milione e mezzo di euro. L'indagine ha portato poi alla scoperta di un'altra attività illecita della mafia di Foggia Ariustini anche considerato irresponsabile della sottrazione di ben 75 quintali di materiale metallico alle ferrovie dello Stato. E' durato meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Gerardo De Gennaro amministratore di fatto della DECA SPA e consigliere regionale PD ai domiciliari del 13 marzo scorso con le accuse di frode in pubbliche forniture falso e corruzione nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bari sul presunto malaffare nelle opere pubbliche realizzate dalla DECA Bari dal 2004 ad oggi. Gerardo De Gennaro ha risposto alle domande del GIP Michele Parisi spiegando per quanto riguarda le contestazioni di falso e frode nei progetti per i due parcheggi interrati di Piazza Giulio Cesare e Piazza Cesare Battisti di non essere un tecnico e quindi di non essersi mai occupato degli aspetti tecnici dell'appalto in ragione del suo ruolo di amministratore all'interno della società. Ha contestato anche le accuse di corruzione nei confronti di Gennaro Russo, dirigente regionale responsabile della procedura via, arrestato nella stessa indagine e nei confronti di Giovanni Micunco, ex comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Ha detto di aver offerto un contributo alla festa dei Vigili e non direttamente all'allora comandante. Interrogato anche Daniele Giulio De Gennaro, direttore generale della DECA SPA, anche lui ai domiciliari, da una settimana per frode in pubbliche forniture, falso, corruzione e truffa, con riferimento anche all'appalto per il centro direzionale del San Paolo. Anche lui nell'interrogatorio di due ore ha contestato le accuse e ha risposto a tutte le domande spiegando di non essersi mai occupato di questioni tecniche inerenti collaudi e progetti, ma di gestire l'organizzazione della società. Con i due di oggi si sono conclusi gli interrogatori di garanzia dei seti arrestati. Secondo gli inquirenti, inoltre, la società DEC del gruppo De Gennaro di Bari ha avuto una contabilità di cassa parallela da 3 milioni di euro, nella quale avrebbe annotato anche il pagamento di stipendi in nero, definendoli fiori, per 200 mila euro. Non sarebbe solo un sospetto, ma quanto accertato dalla Guardia di Finanza, esaminando la documentazione informatica sequestrata presso il gruppo De Gennaro, attraverso la quale sono state ricostruite 908 movimenti di cassa nei soli anni 2006-2007. Non ha nessuna intenzione di dimettersi, né tantomeno di sottrarsi al confronto politico, giuridico e amministrativo. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, nell'aula del Consiglio Comunale, lo ha ribadito a chi dai banchi dell'opposizione lo scorso fine settimana le ha chiesto di farsi da parte, dopo lo scandalo sugli appalti che sarebbero risultati truccati ed affidati dal comune di Bari ai De Gennaro. Lo ha praticamente urlato in aula mentre spiegava passo dopo passo la posizione del comune in merito ai parcheggi realizzati dalla DEC. Più che il sindaco di Bari, Michele Emiliano, sembrava essere tornato a ricoprire i panni di magistrato. Una difesa fiume per una vicenda cafchiana, ha detto il sindaco di Bari, interrotto da qualche protesta dei consiglieri di opposizione. Ed ha battute ai colleghi per allentare la tensione quando si tocca il dolente tasto dei regali ricevuti dai costruttori. E quando Salvatore Campanelli, Salvatore, tu dite, mo, tu l'agnello a Natale non lo devi regalare perché, perché, ecco, regalo la vogliamo, per favore. Ma te lo dico, te lo dico con tutta la semplicità e lo dico veramente a tutti perché viviamo tempi nei quali si rischia, si rischia che la faccia di un gran uomo possa essere ridicolizzata in tutta Italia, in tutti i telegiornali, dovendo io spiegare al mio figlio di dieci anni papà ma che cosa hai combinato a 52 anni dopo aver servito il mio paese da Agrigento a Primisi, dopo aver messo con gioia in palio la mia vita, sempre, e lo farei domani ancora, tutti voi lo sapete, e i paesi lo sanno che per me sentire lo stato significa mettere in palio la mia vita, ma cosa volete che a me interessi di una cosa materiale? E in merito alla vicenda delle case di via Pappacena ha spiegato di aver chiesto direttamente all'allora PM Roberto Rossi se la delibera consigliare avesse delle irregolarità ricevendone in cambio rassicurazioni. Secondo il magistrato che aveva sequestrato le abitazioni, il dottor Rossi, oggi membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ho avuto un colloquio nel quale ho detto chiaro chiaro al dottor Rossi, il Consiglio Comunale da me, l'amministrazione da me coordinata, è disponibile a portare in Consiglio Comunale questa soluzione, salvo che non ci siano dei profili di perplessità, questi profili di perplessità non furono mai manifestati dalla procura della Repubblica. Tutti quanti mi dicono, vabbè fino a moca la sei cavato, ma a moca arrivano le case di via Pappacena, cosa volete che succeda? Quando qualcuno si dovesse concludere l'indagine di via Pappacena, cosa dovrebbe accadere? Noi abbiamo semplicemente in questa amministrazione sanato una vicenda giudiziaria caschiana. Caschiana! Viaggiava tranquillo ed indisturbato con 83 kg di hashish alla guida della sua lancia delta quando al casello autostradale dell'A14 all'altezza di Trani è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza. È stato il comportamento nervoso dell'uomo, un cittadino foggiano ma residente in Lombardia, alla vista delle fiamme gialle, ad insospettire i militari che hanno deciso di spezionare il mezzo. Ed è qui la scoperta della droga. 95 panetti di hashish contenuti in due trolley e un borsone in tela sistemati nel portavagagli dell'auto. Il conducente dell'auto è stato arrestato e condotto nel carcere di Trani, mentre continuano le indagini delle fiamme gialle per accertare da dove provenisse la droga e quale fosse il mercato di destinazione. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti di sostanze stupefacenti compiuto in città e nel territorio. Quantitativi simili quanto a peso sono stati sequestrati negli anni passati, ma si trattava di cocaina e marijuana. Saranno 87 milioni di euro stanziati dal governo a favore delle zone colpite dalle alluvioni dello scorso anno. A renderlo noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha sottolineato come 57 di quei milioni proverranno dal Fondo Nazionale della Protezione Civile e saranno destinati a Puglia, Marche, Calabria, Toscana, Sicilia e Abruzzo, mentre altri 30 milioni saranno messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente a favore di Piemonte, Liguria e Sicilia. Grande esclusa la Basilicata. Chiederò conto al Capo Dipartimento della Protezione Civile e al Governo delle motivazioni dell'esclusione della Basilicata e quindi del Metapuntino dalla ripartizione delle risorse, ha detto il segretario regionale di Fli, Egidio Digilio. Per il Metapuntino, ha continuato, siamo fermi alla prima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011, con 14 milioni e mezzo destinati alla messa in sicurezza del territorio. Rispetto al fabbisogno complessivo per il risarcimento dei danni subiti da agricoltori e cittadini del Metapuntino e ancora più per attuare interventi di difesa del territorio su una vasta area a rischio, è una cifra eccessivamente bassa. Intanto la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia per non essersi adeguata alle norme in materia di prevenzione delle alluvioni. In pratica l'Italia, come altri tre paesi, non ha correttamente recepito nella legislazione nazionale la definizione stessa di alluvioni, applicando per le stesse una interpretazione restrittiva, il che vuol dire che alcuni tipi di inondazioni coperti dalla direttiva europea non compaiono invece nella trasposizione italiana. Secondo il Ministro per l'Ambiente, Corrado Clini, a proposito di discesso idrogeologico per la messa in sicurezza dell'intero territorio italiano, ci vorrebbero 40 miliardi di euro in 15-20 anni, pari a 2 miliardi di euro l'anno di investimento, con un ritorno stimato di 6 miliardi. I licenziamenti dei tre operai della Fiat di Melfi rappresentano nulla più che misure adottate per liberarsi di sindacalisti che avevano assunto posizioni di forte antagonismo, con conseguente immediato pregiudizio per l'azione e la libertà sindacale. Lo scrivono nelle motivazioni della sentenza i giudici di potenza, a proposito della vicenda dei tre lavoratori dello stabilimento Lucano. Il responsabile della linea produttiva, si legge nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2010, ha tenuto un atteggiamento provocatorio, rapportandosi agli operai in un modo che non è stato così tranquillo e pacato come la società sostiene. I giudici fanno riferimento al colloquio avvenuto quella notte davanti ai carrelli bloccati che avrebbero impedito, secondo la Fiat, il prosieguo della produzione da cui è scaturito poi il licenziamento dei tre. La DEC, la società dei costruttori Daniele e Gerardo De Gennaro, arrestati nell'inchiesta sugli appalti a Bari, spunta nelle carte depositate con la chiusura della prima tranche dell'inchiesta sul San Raffaele di Milano. A parlare dei De Gennaro nella sua testimonianza di novembre scorso è uno degli indagati, il costruttore Pierino Zammarchi, il quale ha affermato di aver visto uno dei De Gennaro portare soldi in 5-6 occasioni in una valigia a Mario Kall, vicepresidente del San Raffaele, morto o suicida nel luglio scorso. La DEC entra negli appalti attraverso Coscera, responsabile di Saint-Premier-Mont. Infatti, dopo il flop con un'azienda austriaca per la costruzione del DBIT2, il Dipartimento Universitario di Medicina Molecolare del San Raffaele, Coscera ci presentò, dice Valsecchi, direttore amministrativo del San Raffaele, i De Gennaro. Dagli atti dell'inchiesta barese sugli appalti emerge anche che la DEC ha realizzato per il San Raffaele e il parcheggio interrato. Una volta costruito, il parcheggio doveva essere venduto al prezzo iniziale di 41 milioni di euro, ma sarebbe stato proposto, come si legge nelle carte della Guardia di Finanza, ai possibili compratori a 45-46 milioni di euro, proprio in virtù del fatto che il parcheggio che aveva problemi era quello di Piazza Giulio Cesare a Bari e che offrendo 3-4 milioni in meno per uno e qualche milione in più per l'altro, i De Gennaro avrebbero risolto entrambe le vendite. Massima correttezza nella gestione dei lavori, i fatti già chiariti nel luglio 2011 alla Polizia Giudiziaria di Milano, si legge in un comunicato diffuso inserata dalla DEC S.P.A., in riferimento alle notizie che riguardano l'inchiesta sull'ospedale San Raffaele di Milano. Nella nota si annuncia che la DEC è pronta a presentare denuncia per calunnia, in particolare si precisa che i rapporti della società con la dirigenza del San Raffaele riguardanti la realizzazione in project financing con capitali esclusivamente privati del parcheggio dell'ospedale e la costruzione del Dibit 2 a seguito di bando di concorso, a cui parteciparono le maggiori imprese di costruzione italiane, vinto dalla DEC grazie all'offerta economica più conveniente, si sono sviluppati nella massima correttezza e trasparenza. Tracce di non pensiero, scarabocchi personali destinati più al cestino che al cassetto, ghirigori mentali, giochi di parole visivi, ometti di periferia, donnine di case modeste, nudi o vestiti, ma sempre alla ricerca di un contegno che sperano di trovare magari mettendo una mano in tasca e avendo un bicchiere nell'altra. Così definisce i suoi disegni esposti nella Sala Miorà di Bari in occasione del Bifest, il grande regista italiano Ettore Scola. Cento pezzi che raccontano una umanità piccola e malinconica, dice Scola, che se proprio le si vuole trovare uno scopo è lì per affermare il lato buffo dell'esistente. Sono disegni, come vedete, che ho fatti attraverso anni e anni, non faccio altro, anche adesso continuo a disegnare, sono tracce di non pensiero, tracce di distrazione, tracce di sensazione, cose che si espongono, non so neanche bene perché, perché sono cose personali, sono emozioni che non so quanto si possono comunicare, trasmettere. La mostra dei disegni di Scola, autore anche del poster ufficiale del Bifest in programma a Bari fino a sabato prossimo, sarà aperta tutti i giorni fino al 31 marzo dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Subito dopo Bari i disegni verranno trasferiti a Parigi, dove resteranno esposti per due mesi, aprile e maggio, in una prestigiosa galleria della capitale francese. Ma il festival vero e proprio è iniziato oggi con la proiezione di Portiere di Notte di Liliana Cavani, che riceverà questa sera al Petruzzelli il premio Fellini 8,5 per l'eccellenza cinematografica. Nella serata inaugurale sarà proiettata fuori concorso l'anteprima internazionale di Diaz Non pulite questo sangue di Daniele Vicari. Il rapporto col festival poi è bello perché c'è una città che lo aspetta. C'è una partecipazione che l'anno scorso ha visto 52.000 presenze in otto giorni e nonostante quest'anno noi non si abbia a disposizione un luogo magico di Bari che è stato criminalmente chiuso, che è il Teatro Cursal. Crediamo che avremo ugualmente un numero alto, altrettanto alto, di partecipanti.